Sì, sì, sto passando un brutto momento. Mi serve il tuo aiuto. No, non mandarmi dei messaggi. Per sbaglio ho lanciato il mio telefono contro il muro. Per dieci volte. Ok. Senti, sì, sì, è una cosa seria. Il mio sfogo da stress è un vero sfogo da stress. Ok, senti, quello che voglio dire è che... Io sono Rocky Blue. E non posso farcela. Sai che c'è? Al diavolo la canzone. Tu sei più importante. E adesso vieni a sederti perché se io ti parlerò, tu mi ascolterai. Io lo so che ti stai comportando ancora più follemente del solito per riuscire a entrare all'università di arte. È Harvard. Ma chi se ne importa? E comunque... Dammi retta, lascia quella squadra di basket. No, devo avere il tuo mio... No. Quello che farai ora è... andarti a cercare un dermatologo e... e startene in silenzio. Non hai bisogno del basket sul libretto scolastico. Sì, invece se non ho... Sì, invece se non ho... Tu credi che Stacy come si chiama non sia riuscita a entrare in quel college come si chiama perché non praticava uno sport? Sbagliato. È perché non ha dato una buona impressione di sé al colloquio. Quella ragazza è così fredda che ti viene il mal di testa da gelato solo a parlarci. E poi ha una fastidiosa tendenza a sputacchiare mentre parla e credo sia per l'incisivo scheggiato. Ma visto che ha un padre dentista si potrebbe pensare che... Ok, sì, sì. Stai andando fuori tema. Scusa, è che non parlavo da molto tempo e avrei... qualche piccolo arretrato. E comunque, volevo dire che... voi due sarete simili sulla carta ma la differenza è... è che tu sei Rocky Blue. Tu sei la persona più affettuosa, straordinaria e in gamba che io abbia mai conosciuto. E quando loro ti incontreranno... capiranno che avverti è una fortuna. Hai ragione, sai. Io non posso stressarmi per cercare di capire che cosa vogliono. posso solo offrire la versione migliore di me. Grazie, sì, sì, ti apprezzo davvero. Felice di averti aiutata. E ora, se vuoi scusarmi, di nuovo in silenzio iniziando da adesso. Oh, sì, perché devi risparmiare la voce. Per la voce e... perché io non sono mai stata così razionale prima d'ora e potrei tranquillamente non ripetermi. Molto bene. Questo regalo vale cinque mesi della mia paghetta. Ma sono felice perché sei mia sorella e io ti adoro. Oh, andiamo. Rivolgimi la parola. Questo silenzio mi sta facendo impazzire. Flynn, ma di che stai parlando? Sisi risparmia la voce perché deve cantare in trasmissione domani. Ehi, un momento. Quindi non ce l'avevi con me? Quindi ti ho scritto un poema? Comprato un bel regalo e mi sono sentito tanto in colpa per niente? Non ti rivolgerò mai più la parola. Quanto tempo gli dai? 20 minuti al massimo.